Buongiorno, benvenuti a questo nostro webinar. Sono Salvatore Sicurella e oggi vi terrò compagnia per vedere alcuni aspetti della pratica, soprattutto con Archicad e dell'interscambio tramite questo informato IFC. Devo fare ovviamente una premessa in questi casi e la premessa è che l'argomento che dobbiamo trattare è un argomento molto vasto, molto ampio, un po' ostico e dalquanto noioso, per cui io cercherò magari di stare un po' più sul pratico che sulla teoria, anche se dovete permettermi anche una breve introduzione su quello che intendiamo un po' in merito all'IFC. Questo vale soprattutto per chi ancora ci sta approcciando all'argomento e ovviamente magari per chi invece già lavora da tempo utilizzando l'interscambio tramite IFC sentirà delle cose che magari ha già sentito infinite volte, ma abbiate pazienza e perdonatemi. Open BIM è la filosofia con cui in Graphisoft approcciamo e quindi con Archicad approcciamo la gestione, la filiera BIM, quindi il lavorare, il progettare utilizzando la metodologia BIM. Open perché è aperto, ovviamente abbiamo, e in Archicad me lo consente, abbiamo la possibilità di interloquire, di interscambiare dati con una quantità di altri software, di altri programmi che non sono necessariamente legati all'ambiente Graphisoft, ma che sono liberi, di libera scelta. L'argomento, il formato principale, il più utilizzato, forse anche un po' il più flessibile per questo tipo di interscambio di operatività fra le varie discipline della costruzione e della progettazione è l'IFC che è un linguaggio che ormai è quasi diventato uno standard che è stato e viene ancora sviluppato dal Building Smarting che è un consorzio di software house che sviluppano questo diciamo questo sistema, questo meccanismo. Quindi l'IFC è un elemento in, come si dice, in divenire, in progredire. Bene, l'interoperabilità, quindi la possibilità di interagire fra software diversi con le discipline diverse all'interno dello stesso progetto edilizio. Archicad è nel nostro caso l'Authoring Beam. L'Authoring Beam o Authoring Tool è il programma dove si modella, si costruisce il progetto e quello in cui viene raggruppato, conservato tutte le informazioni relative al progetto. Progetto che via via col passare del tempo cresce e quindi si evolve, per cui si amplifica, aumentano le informazioni contenute e le informazioni contenute possono essere modellate all'interno di Archicad oppure possono essere frutto di interazioni appunto di importazione ed esportazione verso altri file più specializzati. Questa è un'immagine che avrete visto chissà quante volte, però è diciamo il mondo di apertura di Archicad verso l'esterno. Voi vedete qui che ci sono una serie di software rappresentati con i quali Archicad interagisce sia in output che in input, quindi ha la possibilità di esportare e di importare. Ci sono alcuni verso il quale lui è in grado di esportare e non di importare e ce ne sono alcuni come quelli che vengono evidenziati in questo caso che sono il formato IFC che è quello diciamo principale nella filiera del BIM e quindi della progettazione del BIM. Tutto questo perché si ha la necessità di lavorare con varie discipline, le discipline che possono andare dal MAP, quindi dagli impianti, dal computo metrico, dallo strutturale, dall'analisi energetica, cosa che avviene in questi casi, in questo particolare in questo periodo. E l'interoperabilità di Archicad con queste discipline tramite l'IFC è ovviamente fondamentale ed è possibile. Attualmente qui stiamo un breve esempio, abbiamo quindi la interoperabilità fra Archicad e il programma strutturale, il programma di impianti, l'analisi energetica, estimo e quindi computo metrico, fino al management della vita e della gestione dell'edificio e del costruito. Quello che si fa è quello di utilizzare come sistema di interscambio il sistema IFC. In questo caso praticamente vediamo che da Archicad possiamo interagire con questi elementi, con alcuni di questi, come per esempio il calcolo strutturale e l'impiantistica, c'è una interoperabilità in andata in ritorno. Praticamente io posso partire diciamo da quello che viene chiamato l'architettonico, quindi dalla modellazione dell'architettonico nel quale viene inserito, viene eseguito il calcolo strutturale, vengono inserite le armature, sistemate le cose e poi ritorna questo diciamo questa informazione ulteriore, questa modellazione ulteriore, mi ritorna e quindi la reimporto in Archicad e si aggiunge al mio progetto. Questo avviene con lo stesso procedimento anche per quanto riguarda l'impiantistica, non avviene per quanto riguarda gli altri tipo l'analisi energetica, il computometrico o il management dell'edificio perché in quel caso lì non c'è un ritorno, quando ho l'edificio finito io esporto l'IFC per fare il computo estimativo e in quel caso lì una volta fatto è tutto un altro mondo, non deve portarmi delle modifiche diciamo alla modellazione del mio edificio, quindi non aggiungo informazioni di tipo quantitativo, di tipo descrittivo ma non di tipo geometrico. C'è una tendenza oltre a questo tipo di rapporto, quindi ad avere un autore in BIM che è Archicad e quindi modellare, sviluppare il progetto solo su Archicad ed esportare o importare verso altre discipline. C'è una cosa che è abbastanza diffusa che è quella invece di cercare di dialogare tramite IFC con altro software di modellazione che potrebbero, possono essere altri autoring. Ecco, in questo caso il diciamo l'utilizzo dell'IFC e l'interoperabilità è abbastanza problematica, è problematica perché lo vedremo meglio dopo che cosa succede all'interno dei file IFC non è così immediato il diciamo il lavorare in queste cose. Perché? Perché tendenzialmente se io ho modellato il mio architettonico e poi chiedo ad uno studio di fare l'analisi strutturale e di restituirmi diciamo tutto quello che è l'impianto strutturale calcolato dell'edificio che io inserisco all'interno dell'edificio, ingoblo nel mio edificio, quell'elemento lì, tutta quella parte, tutta la parte strutturale dovrebbe rimanere sia dal punto di vista pratico, dal punto di vista legale anche, deve rimanere isolata e immodificabile. Perché? Perché è di pertinenza, di competenza e di responsabilità di chi l'ha fatto. Quindi se ci sono delle variazioni che devono essere fatte nella, diciamo, nella parte strutturale o nella parte di impiantistica, non deve essere fatta modellandola in Archicad, ma deve essere fatta aggiustandola e correggendola nel file, nel programma che l'ha prodotta. Dopodiché questo permette di fare tramite l'interoperabilità, l'aggiornamento di quello che era stato inserito in Archicad. Quindi l'IFC è molto studiato e va molto bene per questo tipo di relazioni. Diventa poco pratico se lo devo andare a modificare poi direttamente io in Archicad con gli strumenti di Archicad. In poche parole, lo vedremo meglio dopo, non è detto che Archicad abbia gli stessi strumenti, per esempio del software per fare l'impiantistica o l'impianto strutturale non ha gli stessi strumenti per effettuare le modifiche con la stessa efficacia e viceversa. Quindi l'idea di modellare lo stesso edificio e quindi l'architettonico collaborando con due programmi più o meno gemelli non va tanto bene perché fra di loro si dialogano, si porto la mia geometria, la geometria dei miei elementi, però non è detto che ho la stessa possibilità di aggiustarli, modificarli e di intervenire così come sono stati fatti in quell'altro programma. Lo vedremo un attimo meglio entrando un po' più nella pratica. Ma tutto questo poi porta al fatto che in sostanza Archicad ha un suo traduttore IFC che converte il mio modello nel formato IFC. Ognuno degli altri software, diciamo, delle varie discipline a loro volta hanno un loro traduttore IFC e una cosa che è fondamentale per poter collaborare bene è quello che i traduttori IFC devono in qualche modo dialogare, comprendersi correttamente. In sostanza quello che io trasmetto tramite l'IFC da Archicad deve essere coordinato con l'IFC e quindi il traduttore IFC del programma con il quale devo cooperare e questa è una fase abbastanza importante che richiede un po' di, come dire, di sperimentazione iniziale. Bisogna fare delle prove per trovare le impostazioni corrette sia per l'esportazione da parte di Archicad o l'importazione, sia l'importazione o l'esportazione dagli altri software. Quindi devo in qualche modo allinearmi per il tipo di dati da passare e come questi dati devono essere passati. Tutto questo è un po' quello che adesso andremo a vedere operando nelle impostazioni quantomeno in Archicad. Facendo un breve riepilogo, il formato IFC è un formato aperto, vale a dire che tutti i software possono utilizzarlo e quindi non è coperto da dei copyright specifici per cui in qualche modo dipendono da un programma particolare. Chiunque studio, gruppo, voglia partecipare a un progetto BIM utilizzando l'IFC non è obbligato ad utilizzare quel programma specifico, quindi un programma individuale. Il formato IFC non ha una scadenza e quindi un file realizzato oggi, nella versione dell'IFC di oggi, sarà compatibile anche in un, diciamo, fra dieci anni, vent'anni, trent'anni e sarà completamente ancora compatibile. Questa è una cosa molto importante perché non avviene con i file, con i formati proprietari, tipo il PLN di Archicad o di altri software, che per via dell'evoluzione che il software che porta avanti è costretto ad abbandonare compatibilità con i formati vecchi, mentre invece un po' come il PDF che è diventato uno standard, alla fine è sempre e rimarrà sempre compatibile. L'IFC, come abbiamo detto, permette di fornire sia la rappresentazione geometrica tridimensionale degli elementi che compongono il progetto e anche di memorizzare per ognuno di questi elementi tutta una serie di informazioni che descrivono pienamente l'elemento che si sta rappresentando. Una cosa importante è che tutti questi software hanno la possibilità di filtrare ed identificare gli elementi che sono rilevanti per quella relativa disciplina. Questo cosa significa? Significa che un programma di impiantistica ha bisogno di certi determinati dati rispetto a quello che invece ha bisogno di un programma strutturale. Un programma di computo metrico ha bisogno di altri tipi di dati per poter lavorare al meglio e quindi ottenere dei risultati positivi. Il formato EFSI non è l'unico formato di interscambio nella filiera BIM, ci sono altri formati, molti di questi sono disponibili in Archicad, generalmente vanno ad integrarsi con l'IFC o sono specifici per certi argomenti particolari. Bene, vediamo un attimo di dare un'occhiata a quello che è la struttura di un file IFC. Quello che vediamo qui è la struttura ad albero di un progetto IFC e c'è una prima parte, il progetto vero e proprio, ognuno di questi elementi ha una sua parola chiave corrispondente nell'IFC e questa parola chiave è quella che poi troveremo più spesso nella classificazione degli elementi. Quindi il progetto è un IFC project, questo si compone di un sito che è il contesto, il lotto in cui si trova il nostro edificio che fa parte del IFC site, dopodiché c'è l'edificio vero e proprio che invece è proprio la costruzione, il building importante. Ognuno di questi building, l'edificio, ha una serie di piani che vengono riconosciuti come IFC building story e ognuno di questi piani, dei piani che compongono gli edifici, contiene gli elementi tipi di questo edificio. Qui possiamo vedere nella parte che è stata contornata una building element proxy, un elemento geometrico generico, quindi non particolarmente specificabile, quindi non è stato classificato o ha una classificazione generica. Però poi vediamo che c'è un IFC column, anzi ce ne sono 12 fra parentesi, vale a dire ci sono 12 pilastri. Poi c'è un IFC distribution element, che è un elemento di impiantistica, può essere di distribuzione, una tubatura, questo poi eventualmente si vede. Poi ci sono 13 solai, due scale, ecco che a ognuno di queste la IFC style 2 per esempio contiene due scale, è aperta, è come se fosse un contenitore che contiene le due scale che sono state inserite. All'interno vedete la freccina in fianco alla scala indica che la scala a sua volta ha dei componenti interni, vale a dire possono essere i rivestimenti, le alzate, la struttura, quello che ci si mette dentro. Sotto vedete ci sono 10 IFC wall, i muri, questi muri hanno anche loro, sono a loro volta dei contenitori, dentro questi contenitori se si apre quella freccina potrebbero saltar fuori le finestre o le porte che sono state messe su quei muri e quindi gli elementi IFC door e IFC windows, oppure possono esserci anche i vari componenti, i vari strati che compongono il muro. Ognuno di questi elementi ha una serie di attributi e di proprietà, vale a dire caratteristiche, informazioni vere e proprie, hanno un'informazione geometrica e da questa informazione geometrica si tirano fuori le dimensioni, i valori dimensionali, hanno anche una quantità di proprietà che vengono abbinate che contengono delle ulteriori informazioni. Alcune di queste informazioni, di queste proprietà vengono inglobate automaticamente nell'IFC, sono quelle diciamo prevalentemente legate all'aspetto geometrico dell'elemento che si sta trattando, quindi le varie superfici, la lunghezza, l'altezza, il volume, il posizionamento all'interno via via del piano dell'edificio, dell'edificio, del sito e del progetto, quindi una identificazione spaziale e dimensionale, più tutta una serie di informazioni che molti di questi possono essere i dati di volta in volta mentre si fa la progettazione dell'edificio. La classificazione e la geometria. Muro corrisponde all'IFC wall, questo è il classico muro, un parallelepipedo che viene definito come IFC wall, però anche questo è un muro, geometricamente è sempre lo stesso parallelepipedo, però ha ulteriori informazioni che vengono aggiunte ed inserite là dentro. Anche questo può essere un IFC wall, anche se non somiglia per niente a quell'altro wall, è realizzato con l'estrusione di una sagoma, di una sezione, però io l'ho voluto classificare come IFC wall, vale a dire che la forma geometrica è in qualche modo slegata da quello che è la classificazione, da quello che io stabilisco che sia. Quindi io potrei avere una forma come questa per farla diventare e classificarla come muro. Ovviamente questo fa sì che il programma che riceve diciamo il modello IFC riceverà e convertirà e comprenderà questa forma geometrica e andrà a vedere, a leggersi come è classificata e in base a come è classificata la considera. Quindi anche se ha la forma di un uovo e se l'ho classificata come wall, IFC wall, quello verrà vista e considerata a tutti gli effetti, tutti gli effetti un muro. Chiaramente per ritornare all'esempio di prima, se io importo un IFC che è stato realizzato da un altro file in cui c'è una forma geometrica a forma di uovo che è stata classificata come IFC wall, la porto in Archicad, in Archicad vedo la forma geometrica, la seleziono, mi dice che è un muro, mi dà tutte le informazioni che sono state assegnate a quel muro, però in Archicad non ho una corrispondenza a uno degli elementi costruttivi di Archicad, quindi il traduttore me lo traduce o come un oggetto o come un elemento forma. Questo cosa significa? Significa che io non posso modificarlo, se dovessi modificarlo, utilizzando gli strumenti che ho in Archicad per l'elemento muro. Quindi la classificazione determina che cos'è una cosa nell'IFC, poi quello che diventa a che cosa viene abbinata negli strumenti del programma che lo riceve è tutta un'altra questione sulla quale non ci dobbiamo perdere troppo tempo. Quello che ho detto per il muro vale sia per il solaio, vale per i pilastri, per le travi, per le scale, vale per tutti gli altri elementi generici, vale per tutta una quantità di elementi di classificazione che fanno parte del mondo IFC, quindi del linguaggio dell'IFC. Quando si lavora con l'IFC e quindi si ha la possibilità di dover, la necessità di dover scambiare dei file, è bene utilizzare degli strumenti aggiuntivi, sono gli IFC Viewer, cioè dei programmi che servono ad analizzare, a vedere che cosa ho fatto. Quindi nel momento in cui io esporto il mio file IFC è buona norma aprirlo con uno di questi viewer e vedere che tutto quello che intendevo salvare all'interno dell'IFC è stato salvato e contenuto. A quel punto sono tranquillo che il mio file deve essere letto anche da chi lo deve ricevere. Uno dei più noti ed è più, diciamo, affidabili viewer è questo, il Solibri, il Solibri Anywhere, è un, come dire, è un freeware, si può scaricare liberamente ed utilizzare liberamente, quindi è uno di quelli che consigliamo perché esiste sia per Mac che per Windows ed è diciamo quello che viene utilizzato prevalentemente per questi scopi. Il fratello, i fratelli maggiori che ci sono prodotti, sono invece a pagamento, anche parecchio costosi, sono quelli che permettono di fare dei check avanzati e quindi di verificare che, per esempio, stabilendo tutta una serie di criteri e di regole, stabilire se queste regole vengono all'interno di un file IFC vengono rispettate o meno. Esempio più banale, mi arriva un modello IFC, io voglio vedere che tutte le porte rispettino certe caratteristiche, certe regole. Inserisco queste regole, il programma analizza l'IFC e mi dice sì, no, oppure mi fa l'elenco e mi mostra quali sono le porte che non corrispondono a questo, diciamo, a questi criteri che io ho stabilito. Una piccola parte di questo tipo di operazione si possono fare anche in Articad, in maniera anche un po' simpatica, ma questo magari li vedrete nella prossima puntata del, diciamo, nel prossimo webinar dedicato all'IFC e oggi invece parleremo prevalentemente della possibilità di, diciamo, di come esportare ed importare al meglio gli IFC. Questa che stiamo vedendo è la schermata di un file aperto in Solibri, vedete sulla parte sinistra in alto la struttura ad albero con le varie cartellette che contengono i vari elementi e poi sotto, sempre nella parte di sinistra, ci sono le varie, tutta la quantità di informazioni che vengono memorizzate. Qui in questo caso è stata selezionata la Stare 1.1 che vedete in verde, evidenziata in verde nel 3D e sotto ci sono attive le informazioni relative all'identification, per cui solo una piccola parte dei dati, il tipo di entità, quindi un'entità scala, il tipo è una scala, il GUID che è un codice unico Global Unique Identification, vale a dire un codice alfanumerico che lo identifica univicamente, poi un ID eccetera eccetera e poi via via tutta una serie di altre informazioni relative al posizionamento, alle quantità, ai materiali, alle relazioni eccetera eccetera. Quindi questo mi permette di andare a verificare esattamente quello che ho realizzato. Bene, il grazie è solo non abbiamo finito, nel senso che adesso passiamo invece alla parte pratica e passiamo ad Archicad, dove andremo a vedere dopo questa breve pausa teorica, breve insomma, teorica, ma spero che vi abbia un po' aiutato a comprendere un po' meglio la situazione. Quindi dicevo in Archicad di che cosa dobbiamo tener conto in primo luogo? In primo luogo dobbiamo tener conto che come si diceva io quando salvo il mio progetto in formato IFC devo saprò a che scopo lo salvo, cioè se lo stesso file io lo devo salvare sia perché deve essere elaborato da un programma per l'analisi strutturale, poi deve essere elaborato da un programma per il computo metrico, poi deve essere elaborato da un programma per l'analisi energetica e così via. Io non faccio un unico IFC che comprende tutto il mondo che ho modellato, ma la prima cosa che faccio è vado a filtrare le cose che servono. Quindi questo significa una certa organizzazione, vale a dire utilizzando i lucidi, l'organizzazione dei vari lucidi con il sistema nuovo o con il sistema precedente con le combinazioni dei lucidi vado a definire i lucidi visibili e invisibili cosa devo esportare e quindi nel caso io debba esportare per l'analisi strutturale renderò invisibile tutti i lucidi che contengono quelle informazioni, quegli elementi che non hanno niente a che fare con che non servono al calcolo strutturale. Stesso discorso per altri versi vale per le altre discipline. Quindi in primo luogo io grazie al filtrare che cose esportare esporto le cose così come servono a chi le deve importare. E questo è già un bel primo passo avanti che richiede una prima organizzazione. L'altro aspetto è legato alla classificazione. Vi ricordo che classificare gli elementi indica, significa semplicemente battezzare gli elementi, dire a ogni forma geometrica, ad ogni elemento geometrico che cos'è e questo lo si fa e lo si imposta in Archicad tramite la classificazione. Qui abbiamo i sistemi di classificazione. Quella che è selezionata è la classificazione standard che viene fornita insieme ad Archicad è la v 2.0 che come vedete contiene una diciamo una serie di altri elementi. Noi la rappresentiamo e viene rappresentata come se fosse la famosa struttura ad alberi. Vedete questo qua l'alberello qua sotto è una classificazione 2, è una classificazione improvvisata, nel senso aggiunta. Io posso avere quante classificazioni voglio. Ora questo è un albero, l'albero ha i rami. In questo caso c'è un ramo che è relativo al sito. Il sito a sua volta ha degli ulteriori rami, uno che comprende gli elementi geometrici e poi ci sono le foglioline che sono gli elementi finiti, gli ultimi, i terminali quindi quelle generiche. Io in sostanza posso decidere che classificherò come terreno qualcosa che definisco come terreno, geometria del sito so quello che c'è attorno, flora e fauna, non credo che ci metteremo, ci potremmo mettere i gattini o i cagnolini, ma diciamo la flora soprattutto, quindi le piantumazioni le classifico come tale, in maniera che chi riceve quel tipo di BIFC sa che cosa sono questi elementi geometrici. Chiaramente le cose più importanti sono legate agli elementi dove ci sono elementi di costruzione e sono a loro volta, vedete, sono degli ulteriori rami che a loro volta, come nel caso del muro, abbiamo muro costituito da elementi, parete mobile, muro parapetto, parete divisoria, cioè delle ulteriori specificazioni per dare maggiore informazione all'elemento. Ognuno di questi elementi, io la seleziono, quindi queste diciamo proprietà potrà essere disponibile per tutta una serie di, cioè avrà a disposizione una serie di proprietà. Questa classificazione qua utilizzerà questo tipo di classificazione, di proprietà scusate. Le proprietà sono le informazioni e quindi sono quelle informazioni che noi aggiungiamo. Il muro parapetto, questi muri ne avranno praticamente, li avranno più o meno tutte uguali, però se andiamo a prendere i pilastri, un pilastro ha meno proprietà rispetto al muro e così via. Se poi andiamo a prendere quella che ho fatto io a titolo di esempio che è molto più semplice, è giusto per capire, c'è un albero, il ramo, a sua volta il ramo ha le foglie e i frutti, questi ancora non sono abbinati, non hanno nessuna delle proprietà abbinate, ma se io voglio abbinare delle proprietà vado a scegliere personale e poi vado a scegliere quali proprietà voglio abbinare, tipo la valutazione generale, che cosa? Indice di resistenza al fuoco, combustione, ok, attivo queste informazioni e così via. Vale a dire che quando io seleziono un elemento costruttivo di qualunque tipo, lo classifico come foglia, a quell'elemento verranno assegnate queste caratteristiche, queste proprietà. Ma dove si impostano le proprietà, le proprietà si impostano nelle opzioni con il gestore proprietà e qui si possono andare a impostare le caratteristiche di queste proprietà. Ogni proprietà può essere di diciamo di vario tipo e può essere disponibile a sua volta per gli elementi che a cui è stata diciamo è stata abbinata e quindi qua mi dice che quando io classifico qualcosa come copertura a 2 questo avrà disponibile questo della combustione e così via. Quindi quello che abbiamo visto di là e di qua in questa cosa è più o meno la stessa cosa. Se vedete io in fondo ho classificazione 2 che non è quella standard e quindi ce l'ho disponibile quella del combustibile, vale a dire la proprietà che mi dice vero o falso questo elemento è combustibile o non è combustibile ed è un valore che io, un'informazione che aggiungo, sarà disponibile per l'albero e la foglia della classificazione 2 e così via. Detto questo abbiamo in qualche modo impostato quando andremo a definire, se io vado a prendere adesso il classico pilastro in classificazioni e proprietà, qui ho le classificazioni a disposizione, ho la classificazione Archicad 2.0 e l'altra classificazione, dico questa non mi interessa nel caso del pilastro e quindi non l'attivo, posso andare a dire questo pilastro che cosa è e quindi lo vado a classificare un pilastro oppure un pilone e quindi diventa un'altra cosa. Mi si attivano in base al tipo di classificazione e alle proprietà abbinate a quella classificazione tutte queste che sono le proprietà disponibili per questo elemento. In fondo ci sono le proprietà IFC che in linea di massima lui si prende automaticamente in base a come è stato impostato il traduttore e qui andiamo a discutere del traduttore. Il traduttore, il tempo passa, quindi cercherò di essere veloce, interoperabilità, IFC, traduttori IFC. In Archicad vengono già forniti tutta una serie di traduttori, sia traduttori per l'importazione, sia traduttori per l'esportazione. Naturalmente quello che sono più importanti tendenzialmente sono importanti entrambi, però sono importanti i traduttori per l'esportazione ai fini dell'impostazione di quello che abbiamo appena visto, di proprietà, classificazioni e così via. Questo perché? Perché io quando vado a scegliere e a impostare un traduttore, vedete questo che è selezionato, ha quest'iconcina qui, quest'iconcina indica che è il traduttore di anteprima. Vale a dire ho abilitato tutto il programma, finché questo è il traduttore di anteprima, ad avere le informazioni relative a quella cosa, quindi al traduttore così com'è. Io potrei per esempio selezionare esportazione parametrica di prova, impostarlo come anteprima, ok, e automaticamente i miei, come dire, i miei elementi assumono e si prendono le caratteristiche e mi rendono visibili le caratteristiche, vedete quante ce ne sono di più rispetto a quelle di prima e quante ce ne sono di meno rispetto a quell'altro, quindi io vado anche a cambiare in base a come impostato queste cose, vado all'anteprima, vado a impostare i parametri che ho a disposizione per ogni elemento. Ritorniamo nei traduttori. Quali sono gli elementi dal punto di vista del traduttore che devo tenere presente? Allora, schema IFC, attualmente sono le versioni, il 2X3 è ancora il più diffuso, anche se è quello un po' più anzianotto, è più recente l'IFC4, per cui è un po' meno utilizzato. Definizione vista modello, queste sono cose che sono più specifiche relative al come devono essere rappresentate, però insomma nel caso nostro prevalentemente il coordination view version 2.0, cioè quello di default, è quello standard. Un ulteriore filtro, vale a dire, e qui ho le preimpostazioni, delle situazioni preimpostate, tutti gli elementi, tutti gli elementi 3D senza porte e finestre, tutti gli elementi 3D, solo gli elementi di costruzione, gli elementi di costruzione con zone, cosa significano? Significano che io vado a scegliere, quando vado a impostarmi queste cose, vado a scegliere quali elementi devo esportare e quali no. Per esempio, se io tolgo l'IFC BIM, ottengo una combinazione personale, significa che nel momento in cui io lo esporto, tutte le cose classificate come IFC BIM non vengono esportate, quindi non saranno presenti nel file IFC che io vado a esportare. Per cui questo è un ulteriore filtro che va a sovrapporsi a quello che dicevo prima, dei lucidi visibili e invisibili. Quindi questo è il filtro in cui io vado a impostare eventualmente che cosa esportare e che cosa non esportare. Classificazione tipo, e quindi qui ho vari tipi di classificazioni impostate, perché? Perché potrei avere, come nel caso prima, avere più sistemi di classificazione. Questo qua è quello, diciamo, standard che avevamo visto prima, dove il sito, vedete, ogni elemento ha un suo corrispondente IFC che è stato sistemato. Se vado un attimo a vedere quella classificazione di prova, qui abbiamo classificazione, vedete IFC Building Element Proxy, questo invece è elemento di arredo, questo prende per genitore, vale a dire si prende quello superiore, oppure il ramo sarà un tipo di, a quale elemento component, a quale elemento IFC standard voglio andare ad abbinarlo, quindi può essere reinforcing element, discrete element, cioè quelli che ci sono presenti nel, diciamo, nei vari distribution IFC, qua ci sono tutti quelli relativi alle costruzioni, ovviamente è un ramo di un muro, potrei dire, che ne so io, è un footing, e quindi questo ramo verrà, quando viene definito, verrà abbinato a questa variabile IFC. Quindi, avendolo modificato, questa che era quella di prova mi dice non va bene, perché la mappatura non è corretta per quello che ho qua, quindi per quella classificazione. ritorniamo su questa, ok, e qua andiamo a scegliere la classificazione corretta. Ho modificato quello un po' a caso e di conseguenza è venuto fuori questa cosa. Quindi qui scegliamo quale sistema di mappatura utilizzare, qui andiamo a scegliere il tipo di geometria con come vogliamo convertire l'elemento. Prevalentemente anche queste sono delle preimpostazioni che possiamo vedere cliccando su questo pulsante e quindi vediamo che la geometria parametrica estrusa, dove è possibile, esporta la geometria lorda degli elementi, esporta la geometria di tutti gli elementi parametrica con eccezioni, oppure posso scegliere un altro tipo di esportazione, estrusi ruotati e così via. Cosa significa tutto questo? Questo significa che prevalentemente io ho due sistemi di conversione della geometria e di trattamento della geometria degli elementi costruiti. Quella dovuta parametrica, la geometria parametrica è quella che mi permette di avere un IFC più editabile, perché gli elementi vengono generati dall'estrusione di una sezione. Nel caso per esempio di un muro abbiamo un parallelepipedo che viene estruso lungo un percorso, questo significa che ha delle dimensioni ma ha anche un'asse di estrusione. Questo tipo di geometria è facilmente modificabile perché mi basta stirare l'asse e quindi ottenere, allungare o accorciare questa geometria che può essere definita per assi. Mentre invece l'altro sistema che posso utilizzare è il sistema BREP o BREP, che invece è basato sulla definizione della geometria con gli spigoli dell'edificio, dell'elemento tridimensionale. In questo caso è come se io in Archicad lo avessi, tutti gli elementi fossero stati disegnati come se fosse lo strumento forma e quindi definito per assi diventa molto complicato da modificare, da gestire, perché non ha un'asse, ha solo gli spigoli e quindi posso stiracchiare utilizzando gli spigoli. Però ottengo una geometria più accurata e più esatta. Quindi il sistema BREP viene per esempio utilizzato dal traduttore geometria esatta in cui mi esporta la geometria in formato BREP, mentre invece quella parametrica generale sono le due più utilizzate, mi esporta invece la geometria estrusa. Volevo farvi vedere un attimo una cosa, un aspetto particolare delle differenze. Mettiamoci in questa casistica qui, qui abbiamo tre muri, questi tre muri sono collegati ad un muro inclinato e una falda, una falda singola. Il primo muro non ha nessun taglio, vedete che però si collega automaticamente, si lega a quell'altro muro e quindi viene tagliato. Il secondo muro è stato tagliato dalla falda con il comando che c'è nel menu design, extra falda taglia la falda al piano singolo, quindi quel taglio definitivo che una volta se sposto la falda o la elimino, il taglio rimane. Il terzo muro invece è stato tagliato dalla falda con operazioni con elementi solidi, quindi quel tipo di taglio automatico che se modifico la falda, sposto il muro, si continua a mantenere questo tipo di legatura. Se io esporto nella geometria BREP, ottengo questa situazione. Vedete, è molto simile a come l'ha costruita Archicad, però poi questi qua, a parte quello inclinato, non sono più muri, ma sono elementi o oggetti o forme. Mentre invece questa è la geometria estrusa. Attenzione perché la geometria estrusa, come vedete, non mi fa la legatura degli elementi. E lo stesso qui, mi taglia questo muro, ma non me lo lega automaticamente con l'altro elemento. E questi che vengono tagliati, questo rimane muro, cioè sono classificati sempre come muro, però questo per esempio in Archicad verrà convertito come muro, questo verrà convertito come muro, questo viene convertito come forma o come oggetto, perché non riesce a generarlo come muro. Detto questo, in soldoni, utilizzo la geometria estrusa prevalentemente quando io devo dare il mio progetto agli ingegneri, perché devono fare i calcoli, perché in quel caso gli elementi strutturali avranno degli assi su cui è possibile poi stabilire effettivamente la parte strutturale. Mentre invece, per quanto riguarda l'utilizzo su computimetrici, io ho bisogno di avere i volumi e le superfici precise, e allora utilizzo l'esportazione con la geometria B-REP. Lo stesso discorso vale praticamente per quasi tutti gli altri campi in cui è importante avere una geometria precisa piuttosto che avere assi. Nel caso per esempio del calcolo energetico, anche qui è più importante avere gli elementi geometrici finiti a sé stanti, ma precisi piuttosto che avere degli elementi modificabili, perché tanto non devono essere modificati, non devono essere modificati e quindi li lascio lì con questo sistema. Detto questo, torniamo alla pianta e al nostro traduttore, interoperabilità traduttore IFC, e quindi abbiamo capito un po' il discorso della geometria. Poi la mappatura standard, anche queste sono sempre della stessa configurazione, qui la faccenda è un pochino più complessa e quindi solvolerei un pochino, nel caso in cui io voglia stabilire degli ulteriori informazioni, prima parlavo di attributi e proprietà, qui posso stabilire delle ulteriori attributi e proprietà, però qui siamo già nell'IFC avanzato. Mi si è bloccato. Ok. Annulla. Conversione dati e qui abbiamo stabilire che cosa vogliamo convertire e quindi quali sono i dati di Archicad da esportare, quindi le classificazioni di sicuro, le proprietà degli elementi anche, proprietà e classificazioni dei materiali da costruzione, anche qui dipende a chi verso cosa devo andare a esportare. Proprietà e classificazioni dei materiali da costruzione può essere che non interessino a certi software, piuttosto che ad altri parametri elemento. Ecco, volendo qualcuno dice, ma sì, li abilito tutti e quindi sono sicuro di esportare, di esportare tutti gli elementi e tutte le informazioni. Detto questo, rimane poi il discorso del, diciamo, del metrico sistema, il sistema di misura che posso andare a scegliere di utilizzare. Praticamente queste sono le cose da, grosso modo da impostare quando si traduce. Stavo parlando dell'esportazione. Nel caso dell'importazione, più o meno ho le stesse parametri. Chiaramente c'è da tener conto che se qualcuno mi porta indietro, mi dà un IFC in cui c'è una geometria di tipo B-REP, questa inevitabilmente con qualunque tipo di, diciamo, con qualunque tipo di traduttore di importazione scelgo, quelli mi diventano, mi diventano alla fine, rimangono sempre o oggetti o forme in sostanza. E quindi qui posso scegliere, di solito dice, quelli che riesci a convertire in oggetti da costruzione, elementi di costruzione, bene, altrimenti li trasformi in oggetti o in forme. Ecco, quindi questo è quello che posso scegliere prevalentemente in fase di importazione. Cosa significa? Che se io ho un elemento classificato IFC wall ed è un parallelepipedo, molto probabilmente, e non è stato salvato da chi lo ha esportato con la geometria B-REP ma con la geometria estrusa, Archicad me lo converte in IFC wall e quindi rimane classificato muro, ma io lo posso trattare, quindi modificare come muro. Altrimenti, se è un uovo classificato come muro, lui me lo trasforma o in un oggetto o nell'elemento forma in base a come imposto io il traduttore di input. che questo, diciamo, è il contenuto principale. Un'ultima cosa, proprio visto che siamo tardi, qui ho una giungla di pilastri e questa giungla di pilastri che possiamo andare a vedere qui, ovviamente ho preparato un attimo prima la cosa, è la mia modellazione. Questa la voglio esportare, salvare in IFC e la esporto per darla all'impiantista che mi cedeva andare a mettere i ferri, a calcolare i ferri, e metterci i ferri e quindi la salvo nella maniera più semplice. Intanto tolgo tutti i lucidi relativi a vegetazione, arredamento, cose che non servono a chi deve fare il calcolo strutturale. Dopodiché, semplicemente, salva col nome, si sceglie l'esportazione parametrica generale che va benissimo e la si salva da qualche parte. Anche qui io posso utilizzare il filtro esporta elementi visibili su tutti i piani, posso anche lavorare su elementi selezionati e quindi se io per esempio ne selezionassi alcuni mi si attiva la possibilità in salva col nome di salvare solo gli elementi selezionati e quindi già posso scegliere anche salvataggi parziali. Una volta che l'ho salvato verrà importato dallo strutturista, ci fa i suoi calcoli, ci mette i ferri e poi mi restituisce l'IFC con i ferri. Cosa faccio io? Archivio Contenuto esterno Questo è una delle vie Contenuto esterno Posiziona collegamento cioè importo l'IFC come modulo vale a dire lo infilo come se fosse quasi un unico blocco all'interno del mio progetto da file il tipo IFC per una importazione generale che va benissimo o qualunque e vado a scegliere quello che mi è stato dato Armature Seleziona Posiziona Posiziona il collegamento Ok E qui lui mi fa una domanda Dovendo gli elementi che non riesce a trasformare in muri, porte, solai, eccetera li converti in oggetto perché probabilmente era scelto di convertirli in oggetto e mi dice Dove li devo salvare? Crea dei nuovi elementi di libreria Questo è un aspetto abbastanza importante perché noi tendenzialmente diciamo libreria incorporata che è la cosa più semplice Però qui bisogna prestare attenzione Perché? Perché se io ne devo importare tanti di IFC o questo va avanti e indietro per un po' di volte e l'IFC non è quattro ferri come importerò io adesso ma è un sacco di roba mi creerà una libreria incorporata molto pesante e questo non piace tanto ad Archicad Adesso andremo a vedere Io in questo caso scelgo una libreria esterna e vado a decidere dove la devo andare a salvare e poi questa cartella che lui salva la aggiungo alle librerie attive però salviamola nella libreria incorporata il nostro IFC e vediamo che cosa succede Lui essendo partito da questo lui me lo riposiziona esattamente su quello Se adesso vado a guardare dentro ci sono i ferri che se cerco di salvare di selezionare mi dice che lo ha convertito in forma in un oggetto quindi ha fatto solo due tipi di modello è un unico oggetto ma che fa parte di un modulo e io non riesco a modificarlo Cos'altro ha fatto? Se andiamo a vedere i lucidi Mi ha realizzato in questo caso era un unico lucido perché c'era un unico elemento ma di solito mi organizza degli altri lucidi che contengono gli elementi IFC importati ad ognuno di questi gli abbina un'estensione e quindi io so che mi viene dal modello IFC e li distingo dagli altri e gli abbina anche un codice di connessione molto alto per evitare che vada ad interferire con tutti gli altri lucidi e quindi gli altri elementi quindi questo elemento è rimasto mostra tutto nel 3D è rimasto come si dice rimane separato direttamente dal mio elemento se adesso vado ad abbinare avevo preparato prima una dove era una sovrascrittura una sovrascrittura grafica i pilastri che ho portato dentro e quindi ho inglobato all'interno del nostro del mio progetto ho inglobato questi elementi e per il momento io mi fermerei mi fermerei qui perché il tempo il tempo è passato adesso ci sta questa immagine questa immagine qua e a questo punto potrebbero essere le domande che già ci sono vediamo se riesco a leggerle ok qui ce n'è per quanto riguarda l'importazione FSI di una geometria parametrica non so perché esportando una cover shell in una classificazione FSI coverings smette di importare praticamente quando lo esporto in IFC lab viene importata parametricamente e qui c'è il discorso in sostanza quando una classificata come non so se dipende da come è stata classificata o se dipende da dagli abbinamenti tra le caratteristiche dell'IFC covering rispetto all'IFC slab e da come sono impostati c'è quel discorso del B-REP da andare a verificare se effettivamente è stata è in un modo o in un altro se viene esportata in B-REP se subisce dei tagli se partecipa a delle operazioni con elementi solidi viene convertita in B-REP e quindi non è più non è più parametrica forse qualche consiglio per l'esportazione importazione da Revit allora se Revit structure e quindi dobbiamo importare Revit map per cui specifico in quel caso lì ci sono già i traduttori già pronti se invece dobbiamo collaborare con l'architettonico fra Revit e Articad la faccenda è quella che dicevo all'inizio non è che vanno proprio tanto d'accordo la geometria viene praticamente importata ed esportata però poi non è detto che quello che è muro in Articad diventa e viene visto come muro in Revit e viceversa e quindi non è una cosa che diciamo potrebbe funzionare sempre e molto bene i consigli Revit può migliorare la sua esportazione utilizzando un plugin per Revit che esiste nel nostro sito e quindi aumenta la flessibilità nell'esportazione dell'IFC di Revit però da questo punto di vista Revit è poco openbeam like come si dice non amano molto l'openbeam per cui si pensano preferiscono chiudersi fra di loro non essendoci ancora obbligatorietà di utilizzare un tipo specifico di classificazione di utilizzare oltre a quella standard o uniclasse queste sono quelle che sono attualmente più utilizzate a meno che appunto il committente o stazione appaltante non me ne fornisca non ne fornisca un'altra è ovvio che la maggior parte di queste classificazioni vengono diciamo sono adattamenti di classificazioni fatti in paesi come l'Inghilterra dove ovviamente loro hanno cominciato a lavorare con il BIM molto prima di noi e quindi hanno già impostato noi abbiamo solo un attimo tradotto però l'IFC è quello che è è standard e quindi tutte le le voce di classificazione sono quelle potete farvi un sistema di classificazione personalizzato abbinando i cosi però ecco non so se ne vale la pena però può essere che io posso integrare il sistema di classificazione Archicad 2.0 aggiungendo nuovi elementi di classificazione facendomene uno per conto per conto mio secondo le mie necessità ok qui dice ho avuto dei problemi con la lettura dell'IFC nel programma Primus non leggeva bene i dati metrici e i muri tagliati da falda allora il discorso è come dire io ho fatto vedere quella diapositiva all'inizio che era quella in cui i vari IFC devono andare d'accordo però Archicad che è un autore in BIM che ha partecipato alla fondazione dell'IFC praticamente ha un'IFC veramente completo come vocabolario e come gestione delle geometrie altri programmi si danno un po' da fare e generano in base a quello che a quello che devono servire Primus è un programma per il computometrico e quindi devo esportare in formato B-REP per evitare il fatto che appunto i muri tagliati non vengono considerati eccetera e sperare che quell'altro programma effettivamente recepisca i tagli dei muri e legga bene tutta la geometria B-REP mi pare di ricordare che non considerano o non gli funzionano il tetto multifalda cioè il tetto automatico di Archicad che taglia i muri ma questo non viene praticamente visto da Primus e da altri programmi quindi prima di esportare bisogna trasformare quel tetto in falde singole e fargliele tagliare direttamente dalle singole falde questo è una di quelle cose che ho sentito e che è possibile fare altri programmi hanno qualche difficoltà con altri aspetti perché magari ci sono alcuni per esempio che non recepiscono i muri curvi e allora se io metto un muro curvo certi programmi non li vedono spariscono a quel punto è questo che fa parte del cercare il dialogo e quindi di mettere d'accordo i due IFC sono quelle prove che vanno fatte quando io devo collaborare con un altro studio che usa un altro software mi preparo dei semplici file di prova in cui metto un muro curvo un muro dritto un solaio una trave un coso un tetto taglio un muro eccetera eccetera cioè faccio una cosa molto semplice comincio a dire ok te l'esporto così cosa leggi cosa vedi no proviamo a correggere finché non si trova l'impostazione l'impostazione giusta e quindi la quadra e a quel punto si può andare avanti un muro curvo c'è lo devo spezzare a pezzettini e allora quell'altro lo legge se no non lo legge e lì ci possiamo fare ci possiamo fare poco per esportare verso Revit Map è più consigliato usare la geometria B-Rep o Estrusa grazie allora anche qui la geometria che io esporto del mio modello verso un programma Map non deve essere praticamente modificata da Revit Map praticamente gli serve il modello su cui lui adagiare diciamo tutti gli impianti tutti i tubi in questo caso è ovvio che va bene va meglio la B-Rep se invece verso il Revit Structure può essere che se io ho delle travi e lui le deve modificare eccetera allora a quel punto gli vuole la parametrica Estrusa in maniera che possa in qualche modo intervenire su quello quando esporto verso Primus le finestre vengono riconosciute ma assorbite dai muri e quindi non visibile cosa posso fare? e bisognerebbe sentire quelli di Revit come quelli di Primus come gestiscono queste cose attenzione perché le finestre possono essere trattate come due elementi un elemento è l'apertura e quindi è un solido che mi che mi fora il muro e l'altro elemento è il il telaio il serramento e quindi bisognerebbe capire se il Primus non fa vedere il serramento perché è annegato nel nel solido che ha tagliato il muro oppure non percepisce il taglio il foro della finestra una cosa da verificare è quella che dicevo prima fare una prova salvando con la geometria estrusa e salvando esportando con la geometria b-rep e vedere che cosa succede un file già calcolato strutturalmente con un altro software si può importare tutto in 3D e come non lo so bene cosa contenga questo file se è solo la parte strutturale oppure la parte tutto ovviamente se è tutto è chiaro che io lo posso importare posso importare tutto e rimangono elementi separati ma rimangono degli elementi duplicati se importo le stesse cose vale a dire nel caso che ho fatto vedere dell'esempio banale io ho esportato le le travi i pilastri scusate i pilastri sono serviti allo strutturista quando lo ha aperto per sapere dove mettere i ferri e calcolare quali ferri metterci insieme alle altre cose ma quando lui mi salva e mi deve restituire il 3D e quindi l'IFC a meno che non abbia spostato dei pilastri e lui mi deve esportare soli ferri non anche i pilastri perché se no anche i pilastri poi vengono a infilarsi dentro è vero che verranno messi su un lucido IFC che io posso sempre nascondere e di conseguenza non diciamo spariscono non si vedono e non interagiscono però generalmente il sistema più semplice anche per soprattutto quando sono edifici complessi riportare dentro tutto quanto anche i muri solai eccetera oltre che ho già e avere un doppione che potrebbe che appesantisce un po' il file poi lo rendo invisibile quei luci di lì non interagiscono e quindi sto tranquillo però se si può evitare è meglio non esiste un traduttore Archicad specifico per Primus perché non non saprei come farlo e quindi se ci date delle indicazioni se si può fare delle prove io non ho Primus e quindi non ho modo di provare e H non 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 ha avuto desiderio di collaborare con noi a differenza di altri quindi non c'è però non credo che sia complicato come vi dicevo prepararvelo da voi in sostanza bisognerebbe capire utilizzando anche solibri o un altro viewer perché il il primus certe cose non le legge non le recepisce o non le importa o le importa male ok il plug-in per Revit non ha un nome lo si trova nel sito di nel nostro sito dove c'è ulteriori addons ulteriori addons nella pagina successiva scorrendo dove si trovano i goodies c'è anche il il plug-in per Revit i colori vengono mantenuti nell'esportazione anche se sono sovrascritture sì vi sono anche problemi nel riconoscimento delle stratigrafie qualora si esporta verso termus beam e qui anche qui bisognerebbe vedere come la cosa la cosa avviene importata abbiamo noi fatto una serie di con Edilclima e quindi con il software di calcolo termico che mi pare si chiami E700 e abbiamo trovato la sistemazione abbiamo fatto anche un webinar insieme in cui spieghiamo come impostare le cose per interagire con quel programma c'è anche un traduttore il traduttore specifico che insomma non è che sia chissà quale quale cosa particolare e quindi però ovviamente lì abbiamo avuto la collaborazione abbiamo collaborato e abbiamo visto queste cose e col primus col termus ritorniamo sempre al mondo al mondo H non saprei dirle quali sono i problemi fate alcune prove e ripeto quando fate le prove non partite sempre con l'edificio completo mettete due muri due pezzi di cose perché è molto più facile da controllare che un intero un intero progetto bene non so se ci sono ulteriori dell'Anna Mirial mi pare mi pare di sì adesso dovete guardare comunque generalmente il come dire come vi ho fatto vedere non è che le impostazioni sono molto diverse la cosa principale da esportare verso i programmi verso i programmi diciamo di calcolo termico sono prevalentemente le murature soprattutto il gusto le murature esterne però dovete fare attenzione perché i programmi di calcolo termico utilizzano anche nell'IFC le zone quindi gli space e lì bisogna vedere come sono stati fatti io vi invito ad andare anche su youtube a cercare il webinar che abbiamo fatto con con Edilclima in cui si spiegano questi accorgimenti che non sono tanto nell'impostare il traduttore quanto più nel come devono essere modellate le cose perché siano compatibili al meglio nel diciamo nel fra di loro quindi è come preparare il modello che è tante volte più importante rispetto al traduttore questi programmi quando li si esporta utilizzando la geometria B-REP è la diciamo è il sistema è il sistema migliore poi è chiaro che magari alcune stratigrafie dei muri non vengono letti sì anche questo ho sentito per quanto riguarda termus mi dicevano che insomma mi esporto il muro come un monoblocco poi in termus le vado a categorizzare e gli do i parametri direttamente direttamente lì ecco mentre per esempio ed il clima mi viene esportato il muro mi viene letto con tutti i suoi strati mi legge le caratteristiche degli strati ma mi legge spessore e nome dello strato poi io lì quel nome di strato lo vado ad abbinare a una voce con dei parametri termici che ho nel database ed il clima è lì quando io abbino che so io al poroton gli abbino quei dati poi è il programma di ed il clima che in base allo spessore si va a calcolare tutti i fattori e tutti i parametri necessari bene vi ringrazio molto e anche questo webinar sarà caricato su youtube di solito dopo una decina di giorni vi ringrazio tutti per la partecipazione e per la pazienza visto l'argomento abbastanza complicato grazie a tutti e buona serata